bella a tutti ragazzi sono Davir come è tornati su gameplay di channel e su stranded alien down allora ragazzi seguiamo la nostra serie dunque vi faccio vedere un po' di modificucce che ho fatto off camera in questi giorni intanto ho completato finalmente la diciamo seconda stanza o prolungamento della prima che dir si voglia togliendo intanto completamente la porta perché tanto non serviva nulla gli ho messo anzi potrei mettergli chissà se riesco a mettere giusto un arco per farlo più carino no no non me lo mette perché mi richiede proprio il muro beh allora facciamo così per farlo un attimino più caruccio perché non mi ero accorto che mi aveva fatto questa cosa qua gli faccio costruire il muro chi cacchio è che mi sta attaccando ferma tutto allora tu sei sveglio vieni qua vammelo attaccare dai porca miseria adesso vi faccio vedere tutto è perché c'è un po' di incasinamento che è successo ovviamente diciamo durante il proseguio della mia partita off camera e comunque ho completato la stanza spostato tutti i banchi di lavoro ho fatto una sorta di mega magazzino ho messo a decostruire praticamente tutti i magazzini che abbiamo in modo da avere diciamo così solo un magazzino centrale adesso lui mi sa che jack non lo piglierà più vabbè senti jack lasso stava vattene a dormire che abbiamo capito che c'è una mira che fa schifo bene allora fatto questo io direi direi di fare dunque volevo fare questa cosa qua ok svuota e demolisci in modo che tutta la roba che ho fuori me la portino dentro perché come vedete inverno fa un freddo della miseria sono riuscito a fargli sì i pantaloni credo a tutti finalmente non ho più gente mutande però non sono riuscito ancora a fare degli abiti propriamente invernali quindi comunque fa freddo per cui se riesco a tenerli diciamo così all'interno a fare i vari lavori è meglio quindi ho messo anche il ciocco qua per fare gli stick insomma tutti i banchi di lavoro e banco da ricerca tutto quanto completamente all'interno poi ho fatto ancora un altro paio di spedizioni il problema è che io non riesco a trovare superstiti non c'è verso di trovare nuove persone ho mandato il nostro redmond a fare varie spedizioni di pod caduti piuttosto che pezzi di nave quant'altro insomma spedizioni che avessero ovviamente la possibilità di avere qualche sopravvissuto ma di sopravvissuti manco l'ombra quindi gestire tutto ragazzi con quattro persone è veramente veramente un casino peraltro ho finito ah no no ok li ho recuperati ok no perché una torretta me l'hanno fatta in più no perfetto perché non avevo più praticamente cpu core però ho messo a scavengiare un po di pezzi di nave che ho in giro alla nostra lara evidentemente lara mi ha trovato dei cpu core che servono per fare le torrette perché questa qua non era ancora costruita invece adesso ce l'abbiamo così almeno diciamo che queste tre torrette sono costruite ora devo costruire ancora queste due io volevo capire solo un attimo se niente mi chiedono tutte il cpu core no perché magari che ne so quella laser piuttosto che magari mi chiedeva non mi chiedeva la cpu core purtroppo mi sa di sì vabbè pazienza poi nella ricerca niente stiamo ricercando adesso devo ridare un focus alla ricerca perché per il momento l'avevo praticamente interrotta non so neanch'io quasi quasi se fare una torretta se studiarmi la torretta lancia fiamme quasi quasi io farei così sai che c'è allora tirami via tutta la ricerca iniziamo a fare la torretta lancia fiamme che ci impiega anche poco l'armatura sintetica assolutamente che ci serve potrei fare la vegy armor sì perché questa le varie cose di di pelle sintetica ce l'abbiamo quindi va benissimo generatore a diesel non è che mi serva così nell'immediato l'orbita alla radio perché ci serve per comunicare probabilmente con altre persone quindi ci serve quello e facciamo il sensore dai così almeno abbiamo fatto tutto adesso però devo ridare un po di focus al nostro buon edmund perfetto in questo modo il nostro edmund farà principalmente ricerca e consegna magari darà una mano un po nella consegna se proprio non c'è niente da fare però mi si focalizzerà principalmente sulla ricerca allora cibo non siamo messi malissimo io ho rimesso l'ara a cucinare devo tra l'altro costruire anche la cucina quelle verve quella vera e propria insomma quindi io la andrei a cucinare si andrei a cucinare buonanotte la andrei a costruire ok mettiamola qua la cucina dai così magari abbiamo anche un punto in più che scalda e il cammino così almeno lo lasciamo lo lasciamo stare bravo il nostro che sta ricercando gli ho costruito come vedete le luci interne ho demolito tutte le torce che così almeno non ci rompono le balle e gli ho messo solo ed esclusivamente delle luci elettriche io magari andrei a demolire se riesco questa torcia qua allora fai così decostruisci e gli mettiamo dei lampioni magari anche fuori così almeno iniziamo un attimino a migliorare il discorso dell'illuminazione ok quindi demolisci questa torcia demolisci questo gli ho messo una lampadina anche qua nel corridoio chiaramente nelle stanze non gli ho messo la luce perché non so se poi gli rompe le balle che cacchio so sti cosi vabbè diciamo di cacciarli sti due cosi sperando che non siano troppo aggressivi cioè seriamente non ne beccano stanno beccando manco uno mi stanno spaccando questi che mi servono tantissimo maledetti vabbè dai questo l'hanno quasi ammazzato orco boia via 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 scappa dentro scappa dentro scappa dentro ok dammi questo vediamo se lui riesce a beccarli vediamo vediamo se riesce a beccarli facciamo andare di qua il cecchino tanto loro riescono a tirargli dai e non c'ho nessuna cacchio di torretta porca misera dai uno è quasi morto guarda che mi stanno rompendo tutte le piante che mi servono per la pelle maledetti dai dai ammazzateli dai ammazzate sto cacchio di cosa ok è morto dai meno male porca miseria se erano coriaci sti due cosi mannaggia loro mannaggia vabbè ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta allora proviamo adesso mettergli oh sì infatti si ne servono due e però il problema è che se queste qua io non so se spara verso il basso è sta cosa secondo me no secondo me devo metterla così questa qua cioè devo metterla tipo all'esterno perché ho paura che non mi spari verso il basso è perché infatti il basso ha i pallini rossi quindi no non serve niente questo niente no aspetta cancella un attimo questo cancella questo e allora questa qua gliela devo fare esterna secondo me vabbè proviamo a farla esterna qua e va bene dai ne facciamo magari due ne mettiamo due qua così ok all'entrata qua del cancello e va bene qua abbiamo anche l'altra l'altra torretta perfetto poi io ne metterei anche una magari di qua ok e ne metterei qualcuno anche qua fuori ma io non ho capito però se queste sono automatiche o deve starci dietro qualcuno non ne ho veramente la più palle di idea vabbè mettiamone una qua nel mezzo e vediamo un po ok eccola qua perfetto si disarma e quindi in teoria questa qua fa da sola in teoria dovrebbe far da sola no credo di sì il problema è che il raggio d'azione è bassissimo scusate ma se io dico di cacciare questo animale la torretta me lo uccide no manco per le balle allora queste qua sono effettivamente automatiche ci sarà da capire quanta distruttività hanno queste torrette è più che altro che non le possiamo mettere in alto quindi sono abbastanza facili da ad attaccare però vediamo mi sembra belle corazzate sul davanti vediamo un po è a massimo le ripariamo non è un gran problema perché dice dietro c'hanno il tanicozzo il lanciafiamme dunque facciamo ancora fatica col con la corrente facciamo ancora fatica con la corrente ed è un bel problema perché le batterie fanno fatica a caricare ho messo un sacco di roba elettrica quindi le batterie fanno veramente veramente fatica allora io metterei intanto un altro pannellozzo solare qua come minimo e poi dovrò costruire sicuramente altre turbine e ne dovrò costruire tante altre di turbine però vabbè dai piano piano si si fa tutto piano piano si fa tutto allora stiamo scaveggiando un sacco di scrap metal ma mi interessa la cpu core che ovviamente non riescono a raccattare e ti pareva e vabbè e vabbè pazienza pazienza ma ciccio sei andato a costruirmi sta cosa cosa ti manca altri 10 stick guarda ricerchi dopo ma mi fa sta cosa va cortesemente va mia fa sta cosa ok stiamo continuando a produrre pantaloni io direi sì facciamo tre va bene già che no che cosa ho fatto allora già che ne teniamo tre di shirt va bene cinque e non non c'ho corrente non c'ho corrente cacchio le sole le sole turbine non non ci bastano abbiamo bisogno veramente di un fracco di di un fracco di pannelli solari secondo me ok allora io ne metterei un altro qua e mettiamolo un po mettiamolo un po perché devo caricare per benino le batterie se no se no è un casino ragazzi se no è veramente un casino ok ne mettiamo un altro a sto punto anche qua ok così ne abbiamo sei allora anche questi due io li potrei spostare qua così qua facciamo tutta una zona di pannelli solari a meno sto cercando anche di iniziare a fare un po di ordine nella nella nostra base benissimo e eventualmente qua potrei fare la zona dedicata alle turbine c'è qua la montagna bisogna capire se pigliano uguale il vento cosa dovremo capire se qua possono andare bene le le turbine perché non ne ho la più pallida idea e ma qua ce ne stanno poche però ce ne stanno ce ne stanno poche quindi io le metterai a sto punto qua si mettiamo le allora facciamole partire da qua almeno siamo a posto perché se no non abbiamo abbastanza abbastanza corrente ragazzi diventa un casino un casino allucinante ed un dopo avanti a ma ricercare ancora mi choppi un po di stick perché qua perché qua come stick siamo messi male allora va bene qua direi che possiamo rimuovere questo campo che tanto a sto punto ci serve più benissimo sta pure piovendo ottimo ottima notizia fa piacere sta notizia qua ok dai così almeno le batterie le batterie le stiamo caricando dai batterie stiamo caricando ok full in un giorno adesso in 15 ore e man mano che costruiscono le cose ovviamente questo countdown si dovrebbe abbassare allora abbiamo scavengiato un po di parti elettroniche dello scrap metal si ma il corno si più urcor neanche neanche l'ombra è un bel casino come detto è veramente veramente un grandissimo casino soprattutto è come si diceva in quattro è davvero difficile riuscire a a gestire tutto meno male che adesso almeno l'inverno è finito quindi tra poco insomma non dovremmo avere problemi io inizierei a spegnere le stufe iniziamo un po spegnere le stufe perché se no è un casino che spegnime le tutte che se no dentro inizia a fare un po troppo caldo sono 24 gradi qua 31 addirittura quindi spegniamo anche queste qua così almeno risparmiamo corrente dai va bene c'è una luce distante questa potrebbe essere una bella bella cosa allora facciamo così io intanto salvo la partita e poi mandiamo in spedizione a sto punto il nostro solito Edmund che andrà a investigare su questa luce misteriosa che è stata vistata sperando sto giro che ci sia che ci sia qualcuno è un Kenfire mortacci tui cioè per forza ci sarà qualcuno nel Kenfire spero se c'è un Kenfire qualcuno l'avrà acceso ok il nuovo anno Edmund se ne va va beh giustamente gli ho dato da fare la spedizione quindi non potrà non potrà vedere purtroppo per lui il festeggiamento i fuochi d'artificio addirittura per il nuovo anno mamma mia addirittura i fuochi d'artificio ok io le altre due a sto punto le metterei qua così spostiamo entrambe almeno qua dietro abbiamo posto per per farci qualcosa poi vediamo cosa su un ulteriore magazzino che altro adesso poi poi si vedrà poi si vedrà va beh dai gli abbiamo dato una bella botta di felicità visto che insomma non è che avessero moltissima di di felicità almeno così stanno un attimino più tranquilli e va bene va bene allora io potrei mettere anche degli stockpile qua si potrei non mi interessa valutare adesso il gioco mannaggia mentre costruisco cose allora per adesso mettiamo degli stockpile qua perché sennò mi sa che non riescono a riescono a metterla roba allora allora ok c'è il pannello solare che provvede alla difesa ma in cattive condizioni ok cerca quello che puoi sistema cerca di fixare insomma le difese proviamo a fixare le difese vediamo se ce la fa vediamo se ce la fa vediamo un po vediamo un po allora ok oh cpu cpu corsa vabbè almeno quelli li abbiamo trovati ok vabbè almeno quelli li abbiamo trovati dai almeno quelli almeno quelli ci sono si adesso non fa più caldissimo in casa perché vabbè ho già spento tutto anche se in realtà adesso in in casa ci sono 10 gradi effettivamente potevo aspettare un attimo però vediamo vediamo se si abbassa troppo andiamo a riaccendere le stufe quant'altro se no se no non è un problema full in 20 ore 20 ore ok va bene va bene speriamo che il nostro edmund torni sano e salvo dalla dall'expedition speriamo speriamo ragazzi speriamo se no è un grandissimo casino anche perché ho bisogno appunto dei cpu core di di una marea di roba oh eccolo qua edmund eccolo qua ma quindi li ho adesso si ne ho due perfetto giusto per fare le due torrette allora ciccio caro fai così vammi a fare intanto questa dai iniziamo a costruire un'altra torretta perfetto e poi ne facciamo un'altra ancora quindi caro buon jack vammi a costruire anche questa dai così siamo diciamo completamente difesi potrei mettere qualcosina anche qua effettivamente faccio perché qua c'è l'ingresso io mettere perché c'è la torretta che copre in parte però io metterei una di queste ok e ne metto anche magari un'altra qua dai così abbiamo altri due lancia fiamme che ci parano il deretano e va bene speriamo che insomma con questo metodo siamo abbastanza protetti ok allora abbiamo la nostra cucina ottimo quindi vediamo un attimino di fare il grime porridge forever poi veggie soup forever e veggie soup forever ok si quante ne ho fatte ne ho fatti due pardon e poi il meat soup forever ok così almeno ci siamo possiamo fare anche il pane fantastico quindi facciamo un attimino anche il pane e vediamo che cosa possiamo fare una marea di roba in più lo stufato di carne o di verdura quindi anche questo io farei vabbè di queste ne facciamo magari o proviamo a farne cinque di questi ok e facciamo cinque di crocchette qua da minita 5 va bene e qua possiamo fare addirittura le torte ok il fruit cake possiamo fare un sacco di cose prova a fare anche cinque torte dai vediamo quello che quello che riusciamo a fare lo facciamo dai quello che si può fa lo facciamo anche perché così se siamo a corto di legna come in questo caso almeno possiamo tranquillamente utilizzare la cucina visto che la cucina invece è elettrica quindi quantomeno da quello che ho visto dovrebbe essere elettrica quindi non dovrei aver bisogno di ulteriori cose va bene ragazzi allora io direi però che posso per il momento concludere qua questo nuovo video dedicato a strand e dagli indone ecco qua che abbiamo altri animali aggressivi però io a sto punto prima di salutarci vedrei un attimino l'attacco ecco intanto che arriva l'attacco volevo anche mettere qualche luce che poi alla fine non l'abbiamo più fatto quindi metterei un bel lampione magari qua nel mezzo no se non lo mettiamo qua dai mettiamo un lampione qua che illumina un po tutta questa zona secondo me ci può stare non ci può stare e perché sono curioso di vedere le torrette lanciafiamme cosa fanno eh aggressive animal ok poi finché sono aggressivi ce ne può fregare meno voglio aspettare che attacchino ma non volevo svegliarli subito o perfetto animal attacche allora uno uno due tre da meno di tutti e mettili qua perfetto perfetto là stanno arrivando però in teoria queste si dovrebbero mettere a sparare sì ok va bene queste funzionano queste qua no però adesso questa gli va contro ma mi sa che non beccano quelli volanti no infatti ma questi che sputano fuoco che stanno fa dai dai attaccata e no questi non li beccano però queste qua purtroppo mi sa che sparano solo dritto per dritto mi sa che sparano solo dritto per dritto però aspetta abbiamo questi scarafone aspetta un attimo che vi ho fatti togliere ma in realtà statemi qua per sicurezza va che non si sa mai allora zio riesce a beccare lui no mancato mira di cacca ah guarda che mi stanno arrivando di qua ok dai vediamo la torretta lancia fiamme no ovviamente torna dentro vabbè attacchiamo anche questo non credo che faccia parte della gombricola però però fermi fermi questo mi dovete attaccare ok mi sta spaccato vabbè tanto è morto da solo vabbò a posto a posto ok è morto da solo ma ha danneggiato anche un pezzo di struttura ma fa niente fa niente allora la ricerca stiamo facendo la vegy armor ok e poi finalmente faremo l'orbita radio allora il diesel generator aspetterei a farlo vorrei fare il battery ottimization assolutamente sì farei il freezer perché anche questo ci potrebbe servire e per adesso per adesso basta per tanto siamo pieni con la ricerca quindi aspetterei un attimo poi a fare il resto va bene ragazzi allora come dicevo quindi io direi che posso concludere qua questo nuovo video dedicato appunto a stranded alien don io invito come sempre come sempre lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi se non siete iscritti e mi raccomando ricordatevi di attivare anche la campanellina delle notifiche infine naturalmente solo per chi vuole dare una mano un contributo concreto e quindi un sostegno un aiuto al canale lo può fare sia attraverso gli abbonamenti di youtube ovviamente sia attraverso il pulsantino grazie che trovate al di sotto di ogni mio video detto questo ragazzi io vi ringrazio vi saluto e ci picchiamo nei prossimi gameplay ciao belli